buongiorno ragazzi benvenuti il reload torna anche nella gamma 2018 2019 di drake si pone come al solito come attacco top di gamma freestyle rifinito estremamente bene è un attacco che si abbina appunto tutte quelle tavole da freestyle di gamma alta che richiedono un attacco preciso sensibile per chiudere trick e migliorare rapidamente la base la base lightsaber è composta di due pezzi molto molto facile la regolazione senza attrezzi basta aprire qua tirare e se tiro troppo forte poi mi rimane in mano come prima è facile quindi adattare la base e l'attacco al proprio piede alla propria misura garantendo un range di vestibilità molto ampia una base comunque discretamente torsionalmente diciamo libera sul piano laterale in modo da consentirvi tutti quei trick in press in stretch vari mentre in conduzione chiaramente ha un ottima una discreta precisione in lamina in modo da a garantire sensibilità e trasmissione dell'impulso corretta mentre lo spoiler spade asimmetrico con due alle girimenti laterali è preciso in conduzione e lateralmente lascia libero il movimento la libertà laterale che lascia è ottima per tentare qualche nuovo trick per diciamo consolidare quelli che già conoscete e comunque non perde un colpo anche in trasmissione backside del vostro peso della vostra forza sulla lamina mentre il fascione gt è un pochino più sottile un pochino più minimale rispetto al gt plus che abbiamo visto sui modelli superiori ma ha un'ottima comodità comodo robusto abbraccia bene il collo del piede insomma niente da dire fa il suo lavoro in maniera più che egregia i cricchetti anche qui sono gli mg 12 ormai sono veramente su tutta la gamma leggeri rapidi e robusti insomma il reload è un ottimo attacco quindi di gamma freestyle di gamma alta freestyle che si abbina a tutti quei setup all mountain senza troppe pretese di velocità estreme o freestyle grazie alla sua precisione in conduzione unita a una grande libertà di movimento che vi consente di tentare nuovi trick correggere facilmente le manovre e tentarne sempre di nuove se volete provarlo drake lo renderà disponibile in molti degli nostri eventi dato anche sul sito per vedere le partnership con questo brand mentre se avete delle domande sulla gamma in generale su questo attacco in particolare scriveteci via mail qua sotto nei commenti oppure sui social a presto boom